Ciao ragazzi, sono Dranix e qui c'è il mio fratello Alessandro Ciao Allora ragazzi, oggi siamo tornati sui tutorial per la seconda volta Dopo aver fatto questo qui che vi voglio mostrare ragazzi Non l'ho tanto arredato, in verità ho messo solo due letti Però per farvi capire com'è venuto la fine Allora ragazzi, si presenta così Voi intrati che c'è la piccola casetta con due letti tristi Bene arredato eh Due tristi Mi sono proprio sprecato, lo so Allora ragazzi, ci sono due novità La prima È che intanto ho salvato il canale di mio fratello sul computer Quindi potrà fare le sue serie e i suoi video sul computer E... ma soprattutto che... Intanto vi consiglio di andare a vedere Di anzi, di mettervi il promemoria nel premier che ho messo Di questa porta qui ragazzi Vi ho messo il premier E quando... E per vedere come sia c'è questa porta qui ragazzi Adesso il premier vi consiglio di andarlo a vedere O meglio di aggiungervi il promemoria Il video uscirà il 10 settembre Da mezzogiorno Comunque Un'altra novità è che intanto io inizierò a fare Sempre sta serie qua di Minecraft ragazzi Ma quella più grande di novità è che intanto inizierò a avere nuove serie Che mio fratello sul suo canale giocherà Angry Birds 2 E... anche... E faremo la reaction senza faccia ovviamente Finché non arriviamo al nostro traguardo E sapete voi qua eh E... Lo ripetiamo? Per sicurezza Va bene dai Aspettate che trovo il foglio Eccolo qua Trovato Allora A 100 iscritti la faccia di mio fratello A 500 la mia A 200 il video che facciamo tutte le nostre serie in un video A 20 la visita della postazione E a 50 inizieremo a giocare a Brain Test ragazzi Vi consiglio di iscrivervi così arriviamo a questo obiettivo Facciamo tutte queste robe Allora E vi volevo dire che nel canale di mio fratello Faremo anche delle serie paolose Come vi ho già detto Con la reaction Però senza faccia Come vi ho già detto tre volte Spero che andate a vederli I nostri video appunto Dopo di questi Dopo di questo video qui Inizieremo a fare Ehm... Beh anche quello Ragazzi metterò anche questo video qui in premiere Va bene Ale? Ok Facciamo un centro Ok ragazzi Faremo una super arma oggi Che spara frecce Allora ragazzi Si inizia così Allora aspettate che Metto Ok Aspettate che dobbiamo prendere il pistone Ma io ero che mi dimentico di una altra cosa Allora Se non sbaglio dovrebbe essere Tipo Ehm... Così Quindi Voglio qua Così Qui spaccate E ci mettete il pistone E verso l'alto Allora Qui ci mettete invece La leva Poi Ragazzi Ragazzi comunque ho fatto quel buco Per chi non l'avesse Eh è partito già questo Quella peppa E la nonna È già partito Aspettate ragazzi E continua Finché non finiscono le frecce Aranciare Aranciare Anzi Meglio che faccio così E dopo spacco Comunque ragazzi Per questo video è tutto Ve lo metto in premiere E ciao ragazzi Ciao